non neanche non so che vado pro non so che vado a capire non so che vado a capire ma proprio c'è dentro e dentro mi dava la cazzotta qua si è addormentato al cervello lo porto per il mio apparello inizia a giocare e non ti vado a fare ssh si inizia 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 o o o o o o o o o Grazie. 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 Ti credevo, Stefano. Likavete bilano. Si. Grazie. 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 Grazie.